Allò, 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 è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video, oggi parliamo di che cosa manifestiamo nella vita. Che cosa manifestiamo nella vita? Perché viviamo una certa vita piuttosto che un'altra? Why? Perché? Che succede? Svelaci l'arcano. Allora, nasci come una bella tabula rasa. Poi a un certo punto ascolti le parole del papà, le parole della mamma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in Africa esiste un concetto di famiglia che è diverso dal concetto di famiglia che c'è in Occidente. Quindi, quando mi sono ritrovato per la prima volta a parlare di orfani in Africa, mi sono reso conto che in Africa c'è un altro concetto. Perché in Italia c'è il papà, la mamma, il figlio e se va bene ce n'è due o tre. Però in genere ormai le famiglie italiane sono fatte così. In Africa no, la famiglia è il papà, la mamma, la seconda moglie, la terza moglie, la quarta moglie, la quinta moglie, la nonna, il nonno, lo zio, la zia, eccetera, eccetera, eccetera. Quando stavamo portando il nostro supporto alle scuole in Africa, a un certo punto c'era questo concetto degli orfani, perché gli orfani rimangono dentro la scuola durante il periodo scolastico, poi durante le vacanze, spum, spariscono. Ma dove sono andati gli orfani? Delle loro famiglie. Ma come le loro famiglie? Eh sì, perché ci sarà un nonno, uno zio, eccetera, per gli africani è meglio che il bambino venga reintegrato all'interno di una famiglia, così che possa apprendere delle professioni, eccetera, eccetera, piuttosto che rimanere chiuso dentro la scuola, vabbè, lasciam stare questa roba qua. C'è un concetto diverso, quindi il concetto di orfano in realtà in Africa non è così come lo percepiamo noi in Italia, è diverso. Se un bambino in Italia perde il papà e la mamma, è un casotto. In Africa non è così, almeno nella realtà dove eravamo non era così, nel senso che, sì, la mamma va bene, non è che la mamma, non è la mamma italiana. La ghè, la ghemia è stessa, è uguale, c'è qualcuno, ci sarà una donna che fa le veci della mamma all'interno di questa grande tribù. O no? Perché ride lei? Adesso ci sarà qualcuno, ci sarà un papà, uno zio, lo zio è uguale, è tutto uguale. E come si creano queste robe? Quindi tu pensa, un bambino in Italia perde il papà o la mamma, è una tragedia, una tragedia. In Africa è uguale, tanto la mamma è uguale, non è che la mamma, no. Oppure, anche i bimbi, in Italia ti muore un figlio, è una tragedia. In Africa è uguale, se no 10, 12 è uguale, uno più uno meno, è i stess. Io banalizzo, ma in realtà è così poi. Ma sì, un paio di figli sono morti, e via. In Italia muore un figlio, sei spacciato forever and ever. La tua vita diventa miserabile per sempre. E allora, com'è possibile che persone diverse reagiscano in maniera così diversa alla stessa identica situazione? Anche il cibo. No, ma se la mia pasta è asciutta al dente e non la mangio, cioè... Eh no, ma in altri paesi, l'attacchi con la colla sul muro, se non rimane incollata, l'è mia buona. E com'è questa roba qua? No, ma perché questo è... Com'è che dice... Ma se non mangio il dal, non mi sento sazio. E tu spaghi? No, non mi sento sazio. Mangià come un porco, ma se che è mia il dal... E la ridere è la... È così. E quindi cos'è che crea delle persone così diverse, le une dalle altre, tanto da credere profondamente a quelle cose, e a condizionare completamente la propria vita? Com'è sta cosa qua? Come nasce questa roba qua? Da ciò che tu ascolti costantemente, tutti i giorni, dal papà, dalla mamma, dallo zio, dal nipote, dall'amico, dalla televisione, dai film, dalla musica. Quindi, ciò che tu sei, in realtà, è una serie di robe che tu hai sentito tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Quindi, devi fare grande attenzione a cosa tu ascolti tutti i giorni, perché è tutto un film, e tu credi di essere quella roba che hai sentito di più. E il caffettino, se non è proprio così... Eh no, l'è minga buona, il caffè... 3C. Senti come scotta questa tazzina, se non scotta non è caffè. Il caffè bisogna prenderlo in piedi, seduti, con lo zucchero, senza lo zucchero, corretto, non corretto, il vino, se non è il vino. Tutto, come ami, come lavori, come ti relazioni con le persone, sputi, non sputi, schifo, non schifo, mangiare con le mani, senza le mani, il papà, la mamma, la famiglia, la moglie, il marito, tutto. Tutto. Tutto ciò che tu credi di essere, in realtà, è un programma. Non è possibile. E' un programma. E' un programma. Tutto un programma. Quindi, fai grande attenzione a ciò che ascolti. Non si dà abbastanza importanza ai film e alla musica. A ciò che vedi e a ciò che ascolti tutti i giorni. inizi a infilare dentro le tue orecchie, dentro i tuoi occhi. E' pazzesca sta cosa. E' tutta pazzesca. Se capisci sta roba, è pazzesca. E' veramente pazzesca. La tua vita è il frutto e il risultato, ciò che manifesti, è il risultato di ciò che vedi e ascolti. Quindi fai grande attenzione a ciò che ascolti e a ciò che vedi. Da Luca Luna è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, prossimo video, prossimo post. Ciao.